Open House Roma studenti e appassionati di architettura e design che nelle due giornate dell'evento ci aiutano a gestire le visite guidate mettendo a disposizione la loro conoscenza e il loro tempo. Ecco alcuni di loro. Ho fatto la guida e questo mi ha portato a conoscere tantissimi visitatori e la soddisfazione più grande è vedere il loro interesse in quello che gli stai mostrando. Io invece sono stata volontaria il primo anno come guida al Ministero dell'Aeronautica che è un edificio molto interessante e il secondo anno invece ho fatto l'assistente dell'area. Open House ti dà la possibilità di metterti in gioco e di diventare il protagonista nel racconto della tua città. Per noi studenti universitari sicuramente è una preziosa occasione di entrare in contatto con la realtà che poi ci aspetta fuori. Io sono stata volontaria per due anni alla Casa dell'Architettura e l'anno scorso all'Aventino abbiamo organizzato una passeggiata con tantissima gente è stata un'esperienza bellissima. Poi ti danno anche i crediti. io io io